allora mi giunge voce naturalmente documentata che la posizione di giuliano castellino sia stata nuovamente presa in esame ed ulteriormente aggravata a seguito di alcune sue dichiarazioni una tra le quali questa cosa scriveranno i pennivendoli del regime servi di partito e dissidenti al guinzaglio quando si proverà che quel sabato a roma la violenza non fu la nostra e che i soli infiltrati erano fonte riservata affidabile non rilevabile o quando sarà accertato che la scena del crimine sembra essere stata manomessa in una sorta di operazione dias 2 puntini 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 ciò però mi fa ricordare che ci fu qualcuno che disse praticamente la stessa cosa già il 12 ottobre 2021 come citato da questo articolo di affari italiani scritto da tal antonio amorosi carlo freccero ogni manifestazione no green pass è volutamente infiltrata e conclude il g8 del 2001 si ripete vent'anni dopo ora mi pare che a carlo freccero non siano state riservate particolari attenzioni da parte della magistratura in seguito a questa dichiarazione che riporta peraltro il pensiero di molti italiani e ve lo dico così eh giusto per dovere di cronaca null'altro